Pace a tutti, ben sintonizzati su Radio Messaggio Cristiano, ben connessi sulla nostra pagina Facebook e il nostro canale YouTube. Sta iniziando il culto, ascoltiamolo insieme. Ci sentiamo più tardi a Dio piacendo. Pace, buon ascolto e buona visione. Pace, buon ascolto e buon ascolto e buon ascolto. Per i nostri sentimenti, il tutto della nostra vita, alleluia, alleluia, alleluia. E che ti siano veramente come soave profumo insieme a Gesù, che con te lo onoriamo e lo benediciamo, ora e sempre, in eterno. Alleluia, amén, amén. Pace, buon ascolto e buon ascolto. Pace, buon ascolto e buon ascolto. Pace, buon ascolto e buon ascolto. Alleluia, amén, amén, alleluia. E sapete, mi è venuta alla mente, il Signore mi ha fatto venire alla mente, quando gli chiedevano quando sarebbe venuto il suo regno, lui per regnare, ecco il regno di Dio. Ecco, Gesù ha risposto, il regno di Dio, dice, è dentro di voi. Alleluia. Sapete, è proprio, è stato, come sempre, come un flash, che il Signore mi ha dato da capire. Vedi, in quell'istante, appunto, fratelli, quando Gesù parla, noi sembra che lo comprendiamo, ma è così profondo nel suo parlare che noi non comprendiamo neanche la minima parte di quello che... ma, insomma, lui ci dà però quel tantino, grazie a lui, per farci capire qualcosina. Allora, mi ha fatto dire questo, quando Gesù ha detto loro, dice, ecco, perché loro gli chiedevano, dice, quando verrà il regno di Dio, no? Allora dice, il regno di Dio è dentro di voi. Scusa, è un corso, come può essere dentro se ancora deve venire il regno di Dio? No? Quindi, Gesù apparentemente, ora non c'è, come ci parlava il Nicodemo? Il Nicodemo cadeva dalle nuvole, dice, come può nascere di nuovo un uomo quando è vecchio? Ecco, allora, il Signore, guardate, quello che un istante fa mi ha fatto capire. Quando lui gli ha detto, il regno di Dio è dentro di voi, perché il regno di Dio, gli ha voluto dire, è già dentro di voi, è incominciato dentro di voi. Perché io sono con voi, e quindi chi crede in me, chi accetta me, io vivo in lui e lui in me. Quindi il regno di Dio è dentro di voi. Alleluia. Questo è stato un istante, così, ecco, sono cose, vedete, che il Signore mi dà sull'istante, così, tipo flash. Quindi, ha detto, vedete, perché infatti da quel momento loro non cominciarono a vivere, vedete, nel regno religioso, spirituale, che avevano, diciamo, osservato tutte quelle regole, quelle leggi, amen, quindi loro erano vissuti in un regno effettivamente prettamente umano, perché anche gli iscrivi, i farisei, i sacerdoti, non è che ne osservavano, ne facevano osservare la parola di Dio, per cui tutti quanti si trovavano ora al di fuori del regno di Dio. Amen. Perché, guardate, se i sacerdoti, gli iscrivi e i farisei, si fossero trovati nel regno di Dio, avrebbero riconosciuto, avrebbero accettato Gesù, e avrebbero continuato a vivere nel regno di Dio. Invece loro già erano fuori dal regno di Dio. Amen. E quindi, ecco, ciechi e guide cieche, non entrate voi, e non fate entrare neanche gli altri, dice, quelli che vorrebbero entrare nel regno dei cieli. Amen. Rivolgendosi ai sacerdoti cose. Perché dice, ciechi e guide cieche? Perché voi li state ammaestrando male, li state guidando male. Non li state guidando per il regno dei cieli. Li state guidando per il regno dei morti. Amen. Glorie a Dio. Invece, ora che gli apostoli, vedete, avevano accettato Gesù, avevano, perché lo stavano seguendo, allora ecco il regno di Dio è dentro di voi. Amen. Quindi noi, noi, tutti quelli, noi, mi riferisco a tutti quelli che ci stiamo sforzando di fare la volontà di Dio con onestà, con sincerità e con lealtà, stiamo vivendo nel regno di Dio. È una cosa meravigliosa. Quindi noi, infatti, anche questa sera, noi, vivendo nel regno di Dio, di Cristo, allora gli stiamo preparando, mediante la lode che gli offriamo, quindi l'obbedienza e il tutto, gli stiamo preparando, diciamo, questo, la sua venuta, quindi questo regno nel quale lui deve regnare non solo a livello spirituale, ma a livello anche fisico, materiale, perché quando Gesù tornerà, tornerà con un corpo di carne, non è che tornerà con un corpo di spirito, no, no, noi, se ci possiamo permettere, lo possiamo pure toccare. A me, gloria a Dio. E infatti, quando i discepoli lo videro salire in cielo, ed erano tutti lì perplessi, sbalorditi, dicono, sta salendo in cielo,ate, sta volando. Gli angeli dissero, perché vi meravigliate? Questo Gesù che avete visto salire in cielo, ritornerà, lo rivedrete nuovamente, ritornerà. Alleluia. Amen? Quindi ritornerà in spirito, ritornerà, e infatti dice, nella medesima maniera che l'avete visto salire, lo vedrete scendere. Quindi sempre con il corpo di carne. Come quando, ecco, si presentò a porte chiuse ai discepoli. Vi ricordate che lui entrò a porte chiuse senza bussare né niente. Non è che è stato maleducato, ma lui, vedete, lui è entrato a porte chiuse, perché, fratelli, guardate che tutte le cose che Gesù ha fatto, anche se apparentemente si potrebbero sorvolare, non si devono sorvolare. Noi le sorvoliamo tutte le volte che non riceviamo una spiegazione da parte di Gesù stesso mediante il suo Santo Spirito. Allora non vogliamo, perché non vogliamo inventarci delle cose. Ma nel momento in cui lui ci spiega il perché lui ha fatto e continua a fare determinate cose, allora noi, vedete, dobbiamo ubbidirgli. E allora, perché Gesù è entrato a porte chiuse, non poteva bussare? Ma avrebbe bussato chi è? Anzi, sarebbe stata la stessa cosa, perché dice, guarda, chi è che bussa? Dice, oh, che saranno i soldati? Che saranno? Dice, però, loro chiedendo, chi è? Lui avrebbe risposto dall'altro lato della porta, no? Avrebbe risposto, sono io, Gesù, il vostro maestro. Loro l'avrebbero riconosciuto alla voce. Amén? Perché lui si sarebbe fatto conoscere alla voce, al suono della voce. Amén? E quindi gli avrebbero aperto, tutto sarebbe andato bene, liscio, no? E allora dice, ma perché allora è entrato a porte chiuse? Gesù, diciamo, è entrato a porte chiuse dopo la sua risurrezione per farsi vedere dagli apostoli. Sapete perché? Per dimostrare loro che lui è veramente figlio di Dio? Lui lo ha fatto per dimostrare che come figlio di Dio nessuna cosa è impossibile, quindi per lui vi è forse qualcosa di impossibile per l'Eterno? Chi è impossibile? Già, sarà a porte chiusi? Amén? Amén? Ecco, allora, quindi per, affinché gli apostoli si rendessero conto che Gesù è veramente Dio, figlio di Dio, ed è Dio, perché ancora, sapete, loro non avevano ricevuto tanto ancora lo Spirito Santo, altre cose, quindi non avrebbero potuto capire certe profondità, e quindi Gesù doveva manifestarsi in una maniera molto più semplice. Quindi, allora, dice, ma come può fare? Piencia pure a porte chiusi. Una, per riconfermarci quello che gli scienziati dicono oggi e quello che abbiamo ricevuto noi mediante la rivelazione, che Gesù diciamo è quella massa che riesce ad attraversare anche i corpi duri, i corpi solidi, amén? Li riesce ad attraversare. Oggi noi come... Ah, ecco, almeno per quanto mi riguarda, perché il Signore dando la rivelazione mi ha dato da capire questo, ecco, quindi mi è più facile ora capire il come, perché appunto, e allora, seguitemi attentamente. Quindi, il Signore, ora, prima, prima della sua morte e la sua risurrezione, lui non poteva passare, passare, entrare a porte chiuse, perché non era stato ancora glorificato, cioè non aveva ancora ripreso la sua natura divina, ancora lui aveva la sua natura umana, nato da Maria Vergine, come quando noi rivestiremo il corpo incorruttibile, allora noi rivestiremo, vedete, quella parte spirituale che se è necessario anche noi entreremo a porte chiuse. Ora, no. Amen. E allora, vi porto questo, ecco, il Signore mi ha dato questo esempio bellissimo, ripeto, guardate che pure i picceretti, guardate che se io ci domando un picceretto, lui mi ripeterà la cosa giusta. Allora, a casa vostra, a casa vostra, ce l'hai tu a radio a casa? L'hai radio a casa? Ah, meno male. Così capirai quello che il Signore mi sta a dire. Allora, tutti abbiamo la radio, amanti, pure io l'hai a radio, a radio, allora non facciamo un radio messaggio cristiano se non lo abbiamo a radio, no? Allora, quindi abbiamo la radio, abbiamo la televisione, o noi per ascoltare la radio e ascoltare e vedere la televisione che gli apriamo botte e finirsi? No, non ci credo. Perché la radio, la televisione, a poter chiuse, non potrà essere. O no? È giusto? potrà essere la radio e la televisione è a poti chiusi? Non può entrare, un c'è la chiave la rotta, si è voglia per finirsi. O no? Allora, lo Spirito di Dio, essendo energia, essendo, ecco, formato di energia, che è ancora più potente delle onde radio, le onde elettromagnetiche, le onde radio, ecco come la radio, la televisione, entra nelle nostre case a porte chiuse, Gesù, essendo Spirito, dotato di questa energia, entra a porte chiuse, più che la radio e la televisione. Capite perché voi potete sempre scherzando, scherzando? Perché dici, come faccio? Può fare a ciascuno. Questo ci dimostra, eh, ci fa capire, cioè, la rivelazione che il Signore mi ha dato. Perché se non fosse in quella maniera, Gesù non poteva entrare a porte chiuse, fratelli. Alleluia. Amen? Vedete che cosa, che cosa meravigliosa, come il Signore, allora guardate, quando lui è entrato a porte chiuse, che è entrato duemila anni fa, eh, e loro non lo potevano capire, guardate, questa sera ce l'ha spiegato in una maniera più chiara, più semplice, ma molto profonda nello stesso tempo. Vedete perché sono entrato, e sono potuto entrare, diciamo, ecco lì, eh, attraverso, eh, appunto per questo. Sono entrato appunto perché la mia natura ora divina, alleluia, è, ha questo potere di attraversare anche i soliti, cioè, la materia solida. Amen? Alleluia. Anche un'altra cosa, anche un'altra cosa importantissima. quando noi siamo stati suggellati o battezzati con lo Spirito Santo, vedete, chi in una maniera, chi in un'altra, abbiamo fatto, il Signore ci ha fatto fare un'esperienza personale e noi abbiamo visto come quando lo Spirito suo è entrato dentro di noi, eh, allora noi eh, non abbiamo potuto più, almeno, noi e tante non abbiamo potuto più neanche muovere la bocca, cioè, di nostra iniziativa, ma la nostra bocca è stata presa, eh, totalmente dalla presenza dello Spirito Santo. Abbiamo sentito quel calore, alleluia, ecco che ci ha elevati proprio, eh, in alto, ecco, che cosa? Vedete, perché appunto lo Spirito di Dio è formato di queste particelle che ci vengono. Alleluia. Guardate, in queste stante stausa con femma ancora per far che, ma guardate come il Signore ci vuole far capire ogni cosa, vedete, e allora seguitemi attentamente, gloria a Dio. Ecco, poi che, vedete, lo Spirito di Dio come pure noi siamo formati di queste particelle, diciamo, che sono cariche di energia, amè? Allora, eh, guardate come, eh, quando oggi c'è, fanno la magnetoterapia, no? la magnetoterapia che è a bassa frequenza oppure ad alta frequenza, la magnetoterapia. Eh, come ho detto una volta, questo lo so perché questo è veramente l'ho studiato e l'ho fatto anch'io, eh, un apparecchietto di questi, un'apparecchiatura medica di questa qui, l'ho fatto, l'ho fatto io perché eh, avevo lo schema, amè? e allora, io ho fatto sia quella a bassa frequenza che quella lì ad alta frequenza, amè? Allora, eh, tanto la magnetoterapia a bassa frequenza che la magnetoterapia ad alta frequenza emettono delle eh, onde elettromagnetiche. Dice, chi c'entra con noi che siamo fatte da canne? eh, 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 siamo fatte di carne ma le nostre cellule sono come delle piccole batterie. Amen? Qua sirva, i dottori e i dottoressa non ci sono mamma da credere che così. Allora, le nostre cellule sono come delle piccole batterie. Eh? Queste batterie, queste cellule si invecchiano e si scaricano. Quando queste cellule invecchiano, si scaricano, allora cominciano ad avvenire i dolori, cominciano ad avvenire le malattie, le cose. Amè? allora la magnetoterapia che cosa fa? Rigenera queste cellule mediante questi impulsi magnetici o a bassa frequenza o ad alta frequenza. Amè? a bassa frequenza per esempio parte di un hertz al secondo per esempio può arrivare un impulso per esempio quando uno si mette quel cuscinetto lì a secondo quello che è no? se poi è trucoso allora lì arriva o se a bassa frequenza arriva per esempio o un hertz al secondo allora fa tum 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 e quello carica le nostre cellule e uno poi dice mi sento meglio certo perché prima aveva la batteria scarica ora l'avevo carica carica amè? riesco a farmi capire di sotto e di sopra mi capite anche voi da sopra così avviene veramente non mi sto scherzando viene così allora e poi che vedete si possono rigenerare queste cellule sia con degli impulsi a bassa frequenza cioè a bassa frequenza che sono ripeto che variano da un hertz per esempio a 20 hertz a 50 hertz poi invece ci sono delle magnetoterapie ad alta frequenza che invece vanno all'ordine come i trasmettitori per esempio vanno a 200 kilo 300 kilo oppure in megahertz a secondo come vengono costruite queste magnetoterapie amè? gloria a Dio però hanno tutti lo stesso fine quello di rigenerare le cellule amè? gloria a Dio e allora quindi vedete quando allora ascoltate bene quando noi perché io poi ho fatto la prova con questi apparecchietti che ho fatto allora mi ricordo che ne ho regalato qualcuna eh? a dei fratelli e allora sapete uno sente che genera un calore alleluia amè? gloria a Dio e allora la presenza lo spirito santo essendo una energia pure magnetica elettromagnetica perché è basato tutto su questo anche lo spirito di Dio è basato su questo ecco perché produce calore in noi quando entra in noi perché entra diciamo entrano quelle forze elettromagnetiche divine dello spirito di Dio amè? e ci riscaldano e provocano quell'effetto sulle ecco agiscono sulle nostre cellule della mente della bocca che non ne fa ne blocca non ne fa parlare oppure della mente amè? che ci fa parlare in lingue nuove cosa è vero amè? gloria a Dio perché proprio agisce sulle nostre cellule e queste cose vedete sono spiegabili a nostri giorni ma ai giorni degli apostoli queste cose non si potevano spiegare perché non le avrebbero capite e per esempio voi non tutti riuscite a capire queste cose insomma io riesco a capire un po' di più in questo caso soltanto in questo caso perché ho studiato per obbe la radiotecnica amè? altrimenti non l'avrei neanche potuta né capire né spiegare ecco per esempio un'altra cosa vedete come è spiegabile oggi grazie al Signore quando voi venite all'unzione no? voi spesso me l'avete detto che dice che sentite in quel momento quando io metto la mano sul capo sentite un calore amè? sapete? è a stufanto braccio allora gloria a Dio perché voi sentite quel calore? perché in quel momento il Signore ha fatto di me della mia mano un generatore quindi di energia di spirito che esce dalla mia mano e colpisce e colpisce le vostre cellule della testa secondo e quindi il vostro capo si riscalda perché sono queste diciamo queste onne elettromagnetiche che compongono lo spirito di Dio che il Signore in quel momento ecco perché ci sono i doni doni di guarigione perché effettivamente i doni di guarigione vuol dire che il Signore ha quelli che dà doni di guarigione li fa come dei generatori di energia elettrica per sanare quelle cellule malate e possibilmente anche risuscitare quelle cellule morte grazie a questa energia tutte basate a Dio chi poteva sapere questo vedete come tutto diventa semplice facile da capire e grazie a Gesù che ce le spiega alleluia altrimenti perché uno sente un calore e quando viene battezzato uno sente la presenza tutta la la faccia per esempio che si comincia a riscaldare la testa e comincia a parlare poi in lingue nuove appunto per questo perché proprio sono i componenti dello Spirito Santo dello Spirito di Dio di Cristo che attraversano il nostro corpo amè alleluia tutto chiaro alleluia amè l'amore a l'amore a l'amore l'alma portendo al Dio che abbia la mente e il cuore sinceri come la sua parola questa è una luce che ci attendiamo tutta la nostra vita dove grandezza, gloria e ricchezza pace di tuo amore gloria a Gesù dove andrà a te e parte il mondo la carità e niente più che avanti c'è tutta la vita eternità siamo provati soli andati e tu provato ancora chi può sapere chi può sannare posso giurare il mare morte nel cielo venga al Signore morte in ascolto e vince non c'è la morte non c'è il maligno gloria a Gesù gloria a Gesù gloria a Gesù dove andrà a te e il padre è morto la carità gloria a Gesù 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 Grazie a tutti. 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 Allora gli angeli buoni sono, insomma, sono buoni, ci sono quelli cattivi, però sono sempre, vedete, altrimenti come potrebbe, vedete, come potrebbero, per esempio Gesù stesso, come poteva, guardate, come avrebbe potuto salire in cielo? E scendere in cielo? Perché la mattina dice a Maria Maddalena non mi toccare, perché non sono salito ancora al Padre. Amin? Amin? che sono stati stesse che sono distanti da noi, miliardi di anni luce. ecco, 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 ecco vedete, allora Gesù è potuto andare alla presenza del Padre e ritornare, perché appunto, vedete, ecco, ora con il suo corpo spirituale, quindi si ve e camminerà a una velocità, lo spirito camminerà a una velocità tale, veramente superiore al pensiero. Perché come una volta il Signore mi ha fatto spiegare, guardate che noi possiamo effettivamente raggiungere un luogo, ecco con la nostra mente, col pensiero, dove siamo stati magari decenni fa, secondo no? Ecco, quel luogo ritornare, oppure per esempio certe volte il Signore stesso quando ci fa fare dei sogni e ci fa ritrovare in certi luoghi e invece noi il nostro corpo è entoletto, è la nostra mente, il nostro spirito. Vedete che siccome è la parte nostra spirituale che il Signore la utilizza per trasportarci, come che a Giovanni lo ha trasportato in spirito, in cielo. Allora, quando certi sogni sono da parte del Signore è Lui che ci trasporta con lo spirito, trasporta il nostro spirito, non la nostra persona fisica, perché la nostra persona fisica domanda, ma con la nostra mente il nostro spirito ci trasporta per esempio in vari luoghi, vedete a che velocità, e per esempio un sogno può durare anche 10 minuti, 5 minuti, 2 minuti, 2 minuti, 2 minuti, 2 minuti, secondo, vedete quindi fratelli, se noi siamo fedeli a Dio, il Signore piano piano ci spiegherà tante cose che quando noi entriamo in cielo, diciamo siamo a casa nostra, andiamo a casa nostra, perché già Lui ci farà conoscere tante di quelle cose, perché sono meravigliosi, non chiaramente alla portata di tutti e anche di noi stessi, se lui non ci fa crescere anche nello spirito, amén, gloria a Dio, alleluia. Alleluia, vogliamo leggere nella parola del Signore come la troveremo scritta nell'Evangelo di Giovanni capitolo 1, leggiamo allora dal versetto 1, nel principio era la parola e la parola era presso Dio, e la parola era Dio, Egli, la parola, era nel principio con Dio, tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui e senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta, in Lui era la vita e la vita era la luce degli uomini e la luce risplende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno compresa. Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni, questi venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di Lui. Egli, cioè Giovanni, non era la luce, ma fu mandato per rendere testimonianza della luce. Egli, la parola, era la luce vera che illumina ogni uomo che viene nel mondo. Egli era nel mondo ed il mondo fu fatto per mezzo di Lui, ma il mondo non lo ha conosciuto. Egli è venuto in casa sua ed i suoi non lo hanno ricevuto, ma a tutti coloro che lo hanno ricevuto, e gli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio, a quelli, cioè, che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio. E la parola si è fatta carne ed ha abitato fra di noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, come gloria dell'unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità. Giovanni testimoniò di Lui e gridò dicendo, «Questi è colui del quale, dicevo, colui che viene dopo di me mi ha preceduto perché era prima di me». «E noi tutti abbiamo ricevuto dalla sua pienezza grazia sopra grazia, poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito figlio che è nel seno del Padre, e colui che lo ha fatto conoscere». Amen. Fin qui. Alleluia. «E che nessuno ha mai visto Dio, cioè l'Eterno, l'unigenito figlio che è nel seno del Padre, e colui che lo ha fatto conoscere». Vedete come oggi, effettivamente, le cose scritte diventano più facili comprenderle, le cose scritte, perché grazie al Signore, vedete che piano piano ci sta spiegando tante cose, e allora noi, sempre grazie non solo alla spiegazione che Lui ci dà, ma anche alla possibilità, mediante il suo Santo Spirito, noi di riuscire a capire, perché se Lui non ci guidasse con lo Spirito Santo, noi non capiremmo. Alleluia. E allora, guardate, praticamente quando il Signore mi fa parlare, e voi riuscite a capire, in quel momento si vede che voi siete molto attenti, allora lo Spirito Santo vi illumina, perché dove c'è distrazione, dove c'è distrazione e disattenzione, lo Spirito Santo non può operare, non opera, si mette a giocare con chi su, a perdere tempo, quindi lo Spirito Santo, vedete, interviene, illumina chi è veramente attento, cioè perché la vostra attenzione, come la mia, la nostra attenzione, ci mette in comunione con Gesù, con lo Spirito Suo, è come se tutti quanti noi avessimo la propria radio. Immaginate, stasera, tutte quante voi, davvero ognuno, la vostra radio, no, una radio, una radio ciascuna, una radicolina, no? Tutte sintonizzate, in tutta stessa frequenza, per esempio, su per Radio Messaggio Cristiano, stiamo ascoltando il Radio Messaggio Cristiano, amene? Allora, quindi se voi state attenti, è come se vi sintonizzaste, su questa frequenza, dove Gesù, mediante il suo Spirito, trasmette, amene? Qui è sintonizzato, riceve, capta, o non è sintonizzato, non capta, c'è fruscio, e si sente frugio, la stazione è destoppata, perché, appunto, non è sintonizzata bene, alleluia, amene? Gloria a Dio, ecco perché, vedete, anche quando noi siamo stati suggellati, abbiamo dovuto, non pensare ad altre cose, perché la distrazione, non ci avrebbe permesso, di sintonizzarci, con lo Spirito di Cristo, alleluia, amene? quindi, allora dice, nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito figlio, che nel seno del padre, è colui che lo ha fatto conoscere, ecco, che è nel seno del padre, che ce l'ha fatto conoscere, allora, guardate, vediamo se riesco a farmi capire, quello che il Signore mi ha dato da capire, mettiamo il caso, mettiamo il caso, che è in una famiglia, in una famiglia, ci siano pace, i figli, quindi fratelli, sorelle, e allora, loro sono, in famiglia, amene? sono in famiglia, amene? Allora, attenzione, se la madre, è stato interessante, e deve partorire da un momento all'altro, quel figlio, che deve nascere, fa parte, quindi già, della famiglia, no? Per esempio, che sono, quattro figli, che sono nati, no? E l'altro che sta nascendo, no? Quindi, non solo in teore, ma anche in pratica, non sono solo quattro figli, già sono cinque, qualche nauseo, comunque non deve nascere, no? Solo che, mentre quei figli, diciamo, sono, nella famiglia, allora, quello che deve nascere, anche, è nel seno, della madre. Non vi ho detto niente? E la stessa cosa? Lo so che non l'avete capito, manco io. E allora, i figli che sono nella famiglia, sono sempre figli, della stessa madre, è giusto? Sono figli. però, il figlio, che è, nella, pancino della mamma, eh? È nel seno, è tutt'uno, è intimo, è tutt'uno, con la madre. Amen? Allora, la scrittura ci dice, che Gesù è nel seno del padre, è come un neonato, per dire, nel seno, però, non vorrei essere frantesa, aspettate che ora continuo, quindi lui, non è un neonato, però, come un neonato, come, ancora, uno che deve nascere, è nel seno della madre, sta sempre nel seno della madre, allora, Gesù sta sempre nel seno del padre. e poi, allora, dici, come può avvenire, ora ci riuro, ne godiamo, diciamo, possono avvenire queste cose, come può facciare uno, quando è vecchio, entrare, nuovamente nel seno della madre. Allora, Gesù è nel seno del padre, perché, il padre, essendo, diciamo, luce, essendo, il suo corpo, il suo essere, un essere, luminoso, un essere, ecco, allora, Gesù, essendo stato, ecco, concepito, dentro il padre, ora, è della stessa sostanza del padre, come il bimbo, è della stessa sostanza della madre. Allora, come il bimbo vive nel seno della madre, Gesù vive nel seno del padre, attenzione, però, ora lui, è nato, è stato generato, e torna a ripetere, questo come può accadere, come accade, no come può accadere, come accade, ecco, nessuno, ha mai visto Dio, l'unigenito figlio, che è nel seno del padre, ecco lui che lo ha fatto conoscere, che è nel seno del padre, non dice che è stato nel seno del padre, ma che è nel seno del padre, io ho portato l'esempio del seno della madre, che ha dentro sé il bimbo, no? Allora, quindi, essendo Gesù, è stato generato dal padre, quindi, è stata generata, una nuova persona, diciamo, della stessa natura, della stessa sostanza del padre, quindi luce è il padre, luce è il figlio, allora, allora, esatto, allora facciamo così, guardate, perché il Signore in questo istante mi ha dato un altro esempio, mettiamo il caso che in questo locale ci fosse, una sola lampadina, no? Una sola lampadina, è giusto? Allora, tutti quanti noi, eh, ci troveremmo nella luce di quella lampadina, amè? Quindi, Gesù si trova nella luce del padre, pur essendo anche lui una fonte luminosa, allora, e, allora, seguiti attentamente, gloria a Dio, vediamo se riesco a farmi capire, allora, il padre, allora, è luce, è questa, quindi, fonte, di energia, amè? Tant'è vero che quando il padre disse, sia la luce, e la luce fu, generò Gesù, amè? Allora, da questa massa luminosa, che è il padre, luce, Dio è luce, non è tanto per dire, Dio è luce, tanto, uno mi sa se c'è acqua a bocca, sì, perché Dio è luce, Allora, quando ha generato Gesù, si è venuta a formare, una seconda massa luminosa, però più piccola, amè? E questa massa luminosa che si è venuta a formare, che è stata generata dalla madre massa, amè? Allora, vive sempre, eh? Dentro, questa, massa luminosa, pur essendo lui un'altra massa, però vive sempre nella stessa massa madre, e riceve energia dalla stessa massa, se si allontanasse, non riceverebbe più quell'energia, e quindi si spegnerebbe, se qualche cosa, la faccio spiegare, chiedetemelo, io lo spiego ancora meglio, amè? Quindi, allora, eh, un altro piccolo esempio, vediamo se anche questo riesce a far, perché quando il Signore mi dà l'esempio, serve pure a me, per capirlo bene, io l'ho afferrato già il concetto, allora, abbiamo il sole, è giusto? Abbiamo il sole, sì o no? No, 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 eh, il sole, eh, illumina, la terra, è vero, non solo la illumina, ma gli dà, le dà, anche vita, non vi scantate, se dico il Dio, le, la, la, basta che mi capite, allora, alla terra, come femminile, diciamo a dire le, come se uno si dice, alla terra gli dà, perché chi non capisce, stessi io capisco, va bene, allora, allora, il sole le dà, la sua luce, alla terra, amén, insieme alla luce, il sole, dà alla terra la vita, perché, se non ci fosse il sole, sulla terra, non ci potrebbe essere vita, quindi, il sole, il sole, dà luce, e vita, allora, il padre, è come il sole, che dà vita, e luce, al figlio, alla terra, se, se, se la terra, si dovesse allontanare, oltre misura, dal, la distanza che ha, dal sole, cesserebbe la vita, sulla terra, se Gesù, si dovesse allontanare, dal padre, cesserebbe in lui, la vita, se si dovesse allontanare, dal padre, cesserebbe in lui, anche la luce, quindi, il padre, e il figlio, devono vivere, sempre insieme, non cucchiate, per forza, però, entro un ambito, a una distanza, perché, chiaramente, Gesù si muove, è giusto, non si muove, non è che è piccicato, e sia mesi, con l'eterno, no, però, vedete, Gesù, dipende, dal padre, perché, se si dovesse, vedete, lui, a separare, ecco, allontanare, dal padre, in lui, cesserebbe, sia la luce, che la vita, amén, alleluia, quindi, cessando, la luce, e la vita, in Gesù, cesserebbe, pure, sulla terra, e cesseremmo, di vivere, pure noi, vedete, tutte collegate, lì, ecco, dici, il capo, della donna, è l'uomo, il capo, dell'uomo, è Cristo, il capo di Cristo, è Dio, cioè il padre, amén, riesco a farmi capire, amén, se non avete capito, me lo dite, io mi ripeto, amén, vedete che, allora, quindi, è chiaro, che, poiché, Gesù, è della stessa sostanza, del padre, vive, nell'ambito, del padre, perché deve ricevere lui, dal padre, amén, chi conosce il padre, se non il figlio, che è della stessa sostanza, e che vive nel seno, cioè nel seno vuol dire, nell'ambito, in quella, in quello spazio, consentito, stabilito dal padre, per il figlio, per trasmettergli in continuazione vita, in poche parole, guardate, alleluia, bello st'esempio pure, mi piace, per me, ora vediamo se mi piace, se lo capite, allora, voi dovete sapere, che, praticamente, il generatore di energia elettrica, la società elettrica, ecco, chiamiamola così, la società elettrica, per esempio, noi importiamo, un po' aria che è una volta, non so se continua, noi per esempio importiamo, energia elettrica, a corrente elettrica, da Francia, e quindi, allora, seguitemi attentamente, allora, l'energia, che arriva in Italia, e per far capire le cose spirituali, allora, l'energia che arriva in Italia, non arriva a 220 volte, quella che viene, e anche quella che viene generata, per esempio in Italia, non è che aggiano a 220 volte, perché altrimenti ci vorrebbero dei generatori, insomma, troppo gigantesi, rischi veramente, quindi, allora, i generatori, producono una tensione, altissima, per esempio, 20.000 volt, 22.000, non so, insomma, alta, ora, non è che, non mi ricordo più, però, ecco, ad alta tensione, ecco, perché ci sono i salicci, si chiamano, i salicci ad alta tensione, perché? Perché quei cavi che voi vedete, che ci sono nell'aria, con i salicci, quei cavi portano la corrente nelle nostre case, però, non portano la corrente nelle nostre case, come la portano loro, dentro quei cavi, perché in quei cavi passa una corrente, ripeto, un voltaggio, di 22.000, ma pare che, volta, una cosa del genere, poi ce ne sono pure da 10.000, 12.000, comunque, altissima tensione, va bene? Allora, quella tensione, mi state seguendo? quella tensione, non entra nelle nostre case, perché una squaglieria, sarebbe pericolosissima, no? Perché a una certa distanza, fratelli, ecco perché tanti operai, certe volte, muoiono pure, perché basta che tocco una malapena, qualcosa, siccome c'è l'alta tensione, scocca, l'arco voltaico, e brucia. E allora, quell'alta tensione, viene introdotta, in dei trasformatori, amén, questi trasformatori, hanno, un'entrata, per esempio, che è 22.000 volte, a 22.000 volte, e un'uscita, eh, a quanto? A quanto? Voglio dire, qualcuno che l'aveva la testa, allora, un'uscita, ascoltate, hanno un'uscita, a 380 volte, non a 220 volte, dice, perché? Escono tre fasi, tre fasi, tre fasi, chiamate, è col neutro, una fase di quella, insieme a, di 380 volte, insieme al neutro, diventa 220 volte. Amén? Ecco perché ci sono anche le fabbriche, che hanno i contatori a 380 volte, quelle hanno tutte e tre le fasi, tutte e tre le fasi, e poi hanno anche il neutro, Io mi ricordo che io avevo l'attività e ce l'avevo così, avevo la trifase con neutro, allora prendevo una fase, una di queste tre fasi, la univo al neutro e rubavo le lampadine, poi prendevo ad esempio un'altra fase di queste per far funzionare i trapani, perché ci sono apparecchiature che funzionano a 220, non tutti i macchinari funzionano a 180, mi capite? Allora, tutto questo discorso, ora ve lo spiego, ne ho già andato a fare niente di queste cose, va bene. E allora, quindi, quest'alta energia viene immessa in questi trasformatori, grossi trasformatori, che la portano. Allora, a loro volta, queste tre fasi, cioè, che sia le tre fasi per far funzionare i macchinari, che cosa danno effettivamente, sia pure a 220, a 180, danno la vita a tutto il pianeta, a tutta la Terra, o no? Perché da corrente facciamo tutte cose, se non va la corrente non facciamo più niente. Vedete che fonte di vita? Vedete che vita? Allora, Gesù, ascoltate bene, Gesù è come se fosse, alleluia, un trasformatore, funge anche da trasformatore. Alleluia. E allora, lui è parte di alta energia perché viene dal padre, quindi il padre, l'alta tensione che fornisce tensione al trasformatore, il trasformatore la trasforma in vita, più o meno avviene la stessa cosa, padre, figlio che dà la vita, quindi senza il trasformatore d'alta tensione, e si fermerebbe la vita, perché appena arriverà uno, 20.000 volte, 20.000 volte, quelle che sono, in questa casa, squaggierà uno fila, si brucierebbero tutte le apparecchiature. Amen, gloria a Dio. Vedete? Alleluia. Quindi, ora, ecco perché nessuno può vedere la mia faccia e vivere, perché la vita mia, vedi, ha 20.000 volte, ancora di più, perché, fratello, un fulmine sono molioni di volte. Quando c'è un fulmine, Dio che c'è lì, sono lì, milioni di volte. Non pensate che sono, ecco perché, certe volte, bruciano tutto, perché sono delle scariche elettriche ad alta tensione, i fulmine. Amen, gloria a Dio. E allora, quindi, tutto, vedete, è collegato, allora, generatore, generatore di alta tensione che è il padre. Amen, che dà energia, che fa uscire l'energia attraverso i cavi che è Gesù, i cavi sono come se fosse Gesù insieme allo sfumatore. Amen, questa energia ad alta tensione deve essere, quindi, ridotta a una tensione tale da poter dare la vita a tutta l'umanità. Figliole, io ho cercato di portarvi quest'esempio, ecco, per fare capire le cose spirituali, perché altrimenti, fratelli, noi non li potremmo capire. Amen? Soltanto così, vedete, perché il Signore mi ha dato questo, ecco perché, e nessuna delle cose fatte è stata fatta se non per mezzo del generatore che ha prodotto quest'alta tensione, quest'esempio trasformatore che l'ha portato a dare, a funzionare tutte quelle apparecchiature per dare la vita. Amen? Allora, noi vediamo che le apparecchiature che si possono trovare in una fabbrica, noi le possiamo paragonare a tutta la creazione che c'è. Ma tutto dipende da te, fratelli, da questa energia. Noi la riceviamo dal sole pure, ripeto, la terra. E infatti se la terra, dice, si avvicinasse di più verso il sole, noi bruceremmo tutti. Se la terra si allontanasse più del dovuto, diventerebbero tutto ghiaccio, diventerebbero tutti surgelati. Tutto ghiaccio. Quindi sia nell'uno che nell'altro caso ci sarebbe la vita. Quindi guardate la precisione di Dio, che ha saputo mettere le cose al giusto posto, alla giusta distanza. E tutte, fratelli, funzionano come un orologio. Dici, ma gloria a Dio. E guai se non funziona. Ecco, ora, nessuno ha mai visto Dio. Alleluia. Come nessuno, ecco, ha messo mano in tuo generatore di alta tensione. Amen? Gloria a Dio. Solo colui che esce da lì. Quindi la corrente, la tensione stessa, la corrente, noi la chiamiamo così corrente, ma la corrente è una cosa, la tensione è un'altra. Amen? Noi, così, in gergo familiare, diciamo, chiamiamo sempre correnti, la corrente l'esca. Amen? Perché la corrente è una cosa, la tensione è un'altra. Solo, camminano tutti e assieme. Amen? Perché la tensione, se non avesse corrente, non riscalderia, non faria niente. Quindi ci vuole, e anche questo, vedete, ecco, sia glorificato è Dio. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui. Quindi, vedete, ci voleva, per la creazione, questa energia così potente, da trasformare poi questa potente energia in bassa tensione, per noi, per dare la vita. Alleluia. Amen? Glorie a Dio. E quindi noi, direttamente, non potremmo. Noi, grazie a Gesù. Amen? Glorie a Dio. Alleluia. Quindi nessuno ha mai visto Dio, l'unigenio figlio, che è nel seno del Padre, è colui che lo ha fatto conoscere. Quindi, seno del Padre, quello che, appunto, io tante volte, sapete, ma lo chiedevo, facevo, signore, spiegamolo in una maniera più chiara che cosa vuole dire nel seno del Padre. In verità ve lo dico. Perché sì, ma nel seno del Padre, ma che vuole dire seno nel Padre? Però c'è qualcosa di più. Ecco, se nel seno del Padre vuol dire come la terra, vive nello spazio adatto rispetto al sole. Quindi il figlio, a me, non si può né allontanare. Ecco, nel seno. Quindi, allora, quindi quando Gesù si muove, si muove sempre nella luce e nell'energia, non soltanto luce, perché, vedete, quando io dico luce, non mi riferisco soltanto alla luce come luminosità. Luce l'intendo come energia. Energia che è anche luminosa. Amen? Quindi, allora, Gesù vive nell'energia luminosa che emana il Padre, dopo che Lui l'ha generato. Amen? Sono riuscito a farlo. Figliolo, se non mi sono saputo spiegare, ditemelo, va. Amen. Perché il Padre, dopo che ha generato Gesù, non lo poteva lasciare solo al di fuori di sé stesso, perché a questa fonte luminosa, a questa fonte di energia generata, sarebbe venuta a mancare quell'energia che gli deve dare vita per l'eternità. Amen? Alleluia. E allora, guardate, perché anche il sole, le stelle sono state create sempre dall'energia di Gesù. Amen? Però vedete, alleluia, le stelle stesse non sono eterne. Loro hanno, certo, durano un miliardo di anni, ma prima o poi muorono. Amen? Quindi la stessa cosa sarebbe Gesù. Lui potrebbe come energia prodotta, però per non spegnersi, per non morire mai, allora ha bisogno di rimanere sempre nell'ambito del Padre. La famiglia, insomma, tolce il Padre. Ripeto, non cucchiate uno con uno, perché Gesù infatti si muove, figliole, c'è l'infinito, c'è l'universo. Fratelli, l'universo, vedete, gloria a Dio, è immenso. Quindi non è di dice, ma ha proprio detto allora Gesù a stare sempre da vicino e ci metterà. Alleluia. Perché l'energia del Padre non è che, vi chiedete, è piccola. L'energia dell'Eterno è così immensa e potente che dà in continuazione energia energia al Figlio. Ecco, io e il Padre siamo uno e io dipendo dal Padre. Tutto l'Eterno. Amen? Fratelli, avrei potuto leggere soltanto, nessuno ha mai visto Dio, l'unigino figlio che è nel seno del Padre e colui che lo ha fatto conoscere. Avrei potuto leggere soltanto questo versetto. Però siccome io non sapevo che lui che signora avrebbe spiegato adesso, allora quindi io l'ho letto tutto. Quindi vedete, questa è una novità anche per me perché il Signore mi ha dato la risposta non mi la poteva dare a casa da solo. No, dice signore io la do a te poiché tu me l'hai chiesto tante volte. Io la do a te e tu lo dai pure alla Chiesa. A cui è interessato? Mi ringrazia? No a mia, a Gesù, al Padre. Amen? Ecco cosa vuol dire è nel seno del Padre. Ecco perché i due vivono insieme e sono inseparabili e devono essere inseparabili. Vai se si persero, se si separassero. Amen? Alleluia. Amen? Perché Gesù stesso se si separasse prima o poi diventerebbe tenebre. Come è diventato quello scritto dell'Eterno Satana? Perché lui era una sorgente luminosa pure lui. Era una sorgente di luce. perché creata dallo Spirito di Dio, del Padre e di Gesù Cristo. Amen, gloria a Dio. Però vedete, nel momento in cui Satana si separò da Dio, dal Figlio, perché vede, tutto l'esercito celeste dipende dal Figlio. Come tutta la Terra, tutti i prodotti dipendono dal Sole, allora tutta la creazione anche soprattutto spirituale, diciamo, parliamo della cosa spirituale, allora tutta la creazione spirituale dipende dall'esistenza del Figlio. Il Figlio, diciamo, Satana si è insupervito, voleva essere simile al Figlio, anzi simile al Padre e allora è stato, vedete, separato, allontanato nel momento in cui Satana è stato allontanato invece di rimanere fonte di energia luminosa, di vita, si spense e invece di energia vivente diventò energia di morte, tenebre. Amen? E il mondo ha amato più le tenebre che è la luce dice perché le loro opere sono erano e sono malvagie. Amen? E Dio ci benedica. 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 ci benedica. Dio ci benedica. Dio ci benedica. ci benedica. Dio ci benedica. dio ci benedica. E la memungία. Dio ci benedica. Dio ci benedica. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.